è donna donna azzannata da cinque cani ora si trova in gravi condizioni all'ospedale con orribili ferite al volto si dice che il cane è il migliore amico dell'uomo beh dipende dalla taglia ci sono i cani di grossa taglia che sono delle vere e proprie armi improprie dipende il cane è il migliore amico dell'uomo quando è di piccole dimensioni capito è una leggenda metropolitana che il cane sia il migliore amico dell'uomo dipende dipende dalla taglia bene cari amici capito azzannata da cinque cani e i padroni dei cinque cani erano li vicini ma non sono riusciti a trattenerli donna azzannata da cinque cani ora è ricoverata in gravi condizioni con orribili orribili ferite al volto eccolo qua è il migliore amico dell'uomo va bene cari amici io ho fatto le mie considerazioni e voi fate le vostre ci tengo tanto a conoscere le vostre considerazioni cari amici vi saluto caramente grazie a tutti grazie a tutti